Come si fa a gestire così tanti prodotti di qualità e a mescolare tutte queste anime? Allora, secondo me, vabbè, ovviamente come tutti i lavori niente è facile. Devo dire che però è anche il bello. È il bello proprio in questo e nel fatto anche di avere al nostro interno e sotto il brand Disney, alla fin fine sono cinque studios, ciascuno se vogliamo anche con delle proprie peculiarità, anche in termini di pubblico, di film e di produzioni, secondo me rende tutto un po' più facile, più divertente e più interessante. Ha a che fare davvero con prodotti, ovviamente prodotti Disney sono trasversali e questo lo vediamo in tutto quello che facciamo. Però poi ciascuno ha un po' le sue peculiarità, i Marvel, sono i Marvel, hanno dei fan del pubblico di Marvel, li fanno dei fumetti, Lucas, Star Wars, Star Wars caspita si porta dietro un'eredietà e un pubblico davvero affezionato al brand Star Wars, quasi da farne una religione. Poi abbiamo tutti i film di animazione, famiglie, bambini, quindi devo dire che questo rende il nostro lavoro un po' più facile, poi come tutti i lavori, devo dire, ha i suoi aspetti un po' più difficili, ovvio, però il fatto, ecco, come dicevamo prima, di lavorare con passione, di divertirsi e di avere alle spalle un'azienda e delle marche così forti sicuramente ci rende il lavoro un po' più facile. Avete dei grandissimi titoli, tutti molto importanti, allora che cosa vedremo nei prossimi mesi? Ecco, questa è anche un po', faccio una piccola premessa, questa è anche un po' la strategia, devo dire che ormai gli studios hanno intrapreso negli ultimi anni, quindi focus su quelli che sono grandi titoli e tendenzialmente grandi franchise. e l'abbiamo visto, i prossimi sei mesi hanno titoli fortissimi, non solo i prossimi sei mesi, direi fino a tutto il 2019, quindi ritroviamo tante trasposizioni live action, lo schiaccianoci e i quattro regni che è il primo ad arrivare, ma poi ne seguiranno tantissimi, Dumbo, Aladdin, Preleone, Artemis Fowl, insomma, ce ne sono davvero dei titoli fortissimi. Continua Marvel perché avremo Ant-Man il più vicino, poi ci sarà Captain Marvel, ci sarà Avengers, il seguito di Avengers Infinity War, anche qua un altro, direi, pilastro importante della nostra slate, il nostro destino, ma non solo, ci sarà a dicembre il Star Wars, l'episodio nuovo, che vedrà la regia ancora JJ Abrams, Pixar, l'animation, Walt Disney Studios, ci sarà, diciamo, Incredibili 2, che è il prossimo titolo che avremo di animazione, ma poi avremo un titolo di Walt Disney Studios, Ralf Spacca Internet, anche qua secondo me si rivelerà una sorpresa davvero forte, avremo Toy Story 4, poi, e poi a fine anno ancora Frozen 2, che penso non abbia bisogno di nessuna presentazione, quindi davvero un listino importante, importante. Da fan di Mary Poppins non posso che chiedere cosa ci dobbiamo aspettare dal ritorno di questa signora, dalla borsa piena di oggetti magici e meravigliosi. Allora, non lo so neanche io, però sicuramente quelli che sono gli ingredienti in questo, devo dire gli ingredienti del nostro studio, soprattutto quando parliamo di live action, appunto il nostro studio di live action, devo dire grande qualità, grande qualità che per me vuol dire tutto, qualità di cinematografia, di sceneggiatura, di coreografia, di musiche, di cast. Un Emily Blunt che ho trovato, io l'ho trovata strepitosa, certo anche noi, mia generazione che magari siamo cresciuti con Julie Andrews e il primo Mary Poppins, magari il paragone è sempre un po' difficile, però davvero ho trovato Emily Blunt perfetta, perfetta per quel ruolo, tra l'altro lei che arrivava anche da ruoli un po' più diversi. Non lo so, anche nel teaser che abbiamo appena lanciato, l'ultimo sguardo che lei lancia allo specchio l'ho trovato magnetico, non potevamo trovare meglio per interpretare in questo caso Mary Poppins che ritorna ovviamente dai Banks.